22 DASPO emessi dal questore di Caltanissetta sarebbero stati notificati infatti i provvedimenti di divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono competizioni sportive da parte della divisione polizia anticrimine della questura nissena nei confronti di 13 nisseni di cui un minorenne e 9 ennesi. Per 14 delle persone colpite da DASPO il divieto varrà per i prossimi due anni mentre per 8 di loro la durata sale a 5 anni. E per 5 soggetti colpiti da DASPO, si legge nel comunicato, è stata disposta e convalidata dall'autorità giudiziaria anche la prescrizione di presentarsi in questura nei giorni di svolgimento delle gare. Si fa riferimento a quanto accaduto nei pressi del Palminnelli prima della partita del 13 novembre 2022. Noi abbiamo riscontrato in città uno scontro simile a quello a cui abbiamo assistito l'ultima domenica scorsa a livello nazionale sull'autostrada ai pressi di Arezzo. La differenza è poca, perlomeno nella gravità dei fatti, anzi direi che questi che si sono avvenuti in piena città, un pomeriggio in cui le persone erano anche a passeggio in quella parte della città, hanno posto ancora più in pericolo le persone estranee alla vicenda. Una cosa del genere fa, indubbiamente mette in cattiva luce una città che invece dal punto di vista dell'accoglienza è una città che ha una sua storia tradizionale di accoglienza. Noi possiamo prevenire tutto, ma quando la gente come in questi casi è determinata assolutamente a scontrarsi, noi possiamo impedire che avvenga in un angolo, ma avverrà in un angolo successivo. Quello che possiamo certamente fare è ridurre al minimo questi numeri, queste partenze, e per questo esiste tutto un lavoro che viene fatto a monte, e quando a monte il lavoro non è sufficiente come in questi casi, poi c'è la possibilità di adottare queste misure che terranno lontane queste persone dagli stadi, e spero le indurranno a riflettere sui propri comportamenti. Siccome erano tutti ovviamente coperti con sciarpe, cuffie e quant'altro, o caschi, ovviamente le operazioni di identificazione non sono mai semplici ed immediati. Intanto abbiamo rimesso questi 22 perché su questi c'erano delle certezze, e poi soprattutto perché si approssimano altri incontri che potrebbero essere definiti a rischio. Attualmente le persone sottoposte a DASPO nella provincia nissena sono 47. La legge si applica o non si applica? Noi la applichiamo.